Prudenza perché sembra impossibile, succede anche ai ragazzi giovani, quindi il malore può sempre capitare, quindi prudente è non andare a fare il bagno dove non c'è la bagnabilità. La bagnabilità è una cosa che si acquisisce in acqua a fronte di diversi elementi. La qualità dell'acqua, senz'altro, viene provata prima, ma ci deve essere anche un servizio di bagnini, ci deve essere una serie di elementi di sicurezza tali per poter dire che un posto è balneabile. Se non ci sono, per forza, non è che lungo i nostri fiumi vediamo il divieto di balneabilità ogni 10 metri segnato, non è balneabile, si indica dove è balneabile e lì è più prudente rinfrescarsi. Non perché c'è acqua, quindi c'è un elemento di imprudenza che è bene tralasciare.